il più simpatico direi che tutti sono simpatici posso dire anche sa perché magari ho più affinità il più serio il capitano quello che ascolta musica migliore anche sa il miglior compagno di stanza diego il miglior accoppiamento di stanza mario di lorenzo il miglior taglio di capelli il momento più divertente di questo ritiro la foto prima il più intonato costiga non è male vi saluto a tutti i tifosi forza napoli sempre